A magli estremi, estremi rimedi, con lunghi giorni di scuola alternativa ai tempi del coronavirus per migliaia di studenti abruzzesi, dai più piccoli delle primarie a quelli in odore di esami di Stato. E così è entrata a pieno regime dopo una prima fase di difficoltà, anche per insegnanti non proprio pratici col web e con le varie app dedicate appositamente, la didattica a distanza. Nelle varie piattaforme online sono caricati esercizi, video, temi da svolgere, slide di tutte le materie. Le scuole chiuse non rappresentano così vacanze forzate, ma la raccomandazione è sempre una, seguire almeno due ore al giorno di didattica online in un'offerta ricca di sistemi per l'apprendimento a distanza. Ogni singola scuola con i docenti che hanno trovato sinergia e organizzazione ha trovato vari modelli da seguire, rifugiandosi anche nella creatività e a volte sopperendo alla mancanza di tecnologie adeguate di qualche famiglia con le classiche fotocopie. Classroom, Edmodo, WeSchool, ClassMeal sono piattaforme tra le più utili e seguite e poi Whatsapp, Facebook e tante altre applicazioni stanno trovando seguito per lezioni, esercizi, collegamenti, compiti da fare a casa per poi passare la verifica degli insegnanti. Un'emergenza scolastica che è anche una scommessa da parte dei ragazzi per non lasciarsi andare a scoramenti e mantenere l'esercizio allo studio, da parte dei docenti per adeguarsi ad una tecnologia ormai imprescindibile alla quale bisogna rispondere con straordinaria vitalità. Del resto la necessità agussa l'ingegno.